Chiedo scusa, darei la parola all'Avvocato Lucia Castellano, provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria in Campania, nota soprattutto per l'esperienza del carcere di Bollate e per alcuni libri scritti sui diritti e non solo sui doveri dei detenuti. Grazie, grazie mille, anche per l'Avvocato che in realtà non esercito da tanto tempo. Grazie davvero, sono molto contenta e emozionata di essere qui. Grazie al dottor Capesci, al SAP e a voi tutti. Un augurio veloce, mutuando le parole del mio maestro e amico Carmelo Cantone, di Massimo Parisi, che hanno usato la parola insieme. Io credo che questo sia un tempo importante, un tempo storico e politico importantissimo in cui ciascuno di noi, prima di tutti la magistratura direi, immagina e costruisce una risposta punitiva diversa, nuova rispetto ai canoni tradizionali. Penso soltanto all'esecuzione penale esterna, alla riforma cartabbia, al DNA di tanti interlocutori istituzionali nostri che cambia continuamente. Pensiamo al giudice della cognizione che si confronta con i percorsi dei detenuti nella messa alla prova e ora nelle sanzioni sostitutive. E come la Polizia Penitenziaria è al passo con tutto questo, perché si sperimenta anche all'esterno del carcere, nell'accompagnamento a questi percorsi che sono extramenia. E allora credo che noi dobbiamo sapere tutti qua... Ecco. Prima fra tutti la Polizia Penitenziaria che, come tutti noi, impara a declinare la propria professionalità senza mai dismettere il proprio ruolo di poliziotto, in una collegialità di interventi senza la quale la vita intramenia ed anche extramenia e la risposta punitiva stessa perde di senso. E allora il mio augurio oggi, tutti quanti insieme, io oggi sono al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Campania e porto i saluti di tutti i poliziotti penitenziari campani che, insieme a tutti gli altri colleghi d'Italia, fanno veramente un lavoro importante, logorante, difficile, ma anche, secondo me, bellissimo. E lo possono fare meglio soltanto, secondo me, nella collegialità degli interventi. Io dico sempre che il poliziotto penitenziario non può essere l'unico attore di front office nella relazione con il detenuto, ma deve essere accompagnato dall'aiuto di tante altre figure professionali, sanitari, professionisti del comparto funzioni centrali, direttori, dirigenti. E quindi il mio augurio di oggi è veramente quello di crescere insieme, di continuare a crescere insieme nella carcere e fuori dal carcere con i nuovi nuclei di polizia penitenziaria che all'esterno del carcere accompagnano risposte punitive che forse più di quella intramenia realizzano il dettato costituzionale. Quindi con questa parola insieme, con questa parola collegialità io auguro a tutti voi buon lavoro e anche a tutti noi, a tutti i poliziotti che sono in istituto. Grazie. Grazie.